Prima di iniziare questo video mi sono chiesto se era il caso di spendere due parole per quello che è successo a Kobe Bryant e a tutti gli altri che sono periti insieme a lui. Vedete il rischio in questi casi qua proprio di scadere nella retorica. Faccio mio un pensiero che ho esprimere da Walter Zenga nella trasmissione Pressing, ci avevo anche già pensato anch'io comunque, e quando vedi questi personaggi hai quasi la sensazione che possono essere immortali e solo in queste circostanze ti rendi conto che sono uomini, che sono persone come tutti noi, siamo tutti uguali davanti a Dio. E non è che conti di più essere una stella dello sport, una stella del cinema piuttosto che essere un metallo meccanico, un postino o qualunque altro tipo di lavoro o di attività che si svolge su questa terra. Quindi si prova un dolore immenso. Pensi alla famiglia, pensi a quello che è rimasto, la moglie con le altre figlie, pensi alle famiglie degli altri, pensi, o meglio all'inizio non pensi, che tutte queste cose si verificano quotidianamente. Purtroppo in tutto il mondo è che c'è tanto dolore nel mondo ogni giorno legato a situazioni come queste e onestamente non so nemmeno come continuare, non voglio sminuire nulla e non voglio fare il bastian contrario di un momento di grandissimo dolore e di grandi manifestazioni nei confronti di Kobe Bryant e della sua famiglia. Anch'io sono rimasto colpito. Ho saputo poco prima che iniziasse Napoli-Juve e ogni 3x2 pensavo a Kobe Bryant. E lo ammetto, cioè i primi 20 minuti ho fatto fatica anche a concentrarmi sulla partita perché continuavo a pensare a Kobe Bryant, a guardare sul telefonino le notizie che arrivavano relative a questo fatto. Io lo sapete, sono credente, io non posso fare altro in questi casi che pregare, ma non è un pregare, mettersi lì a recitare una preghiera memoria. Pensare, credere che ci sia in tutto, in tutto questo un disegno divino che tra l'altro toccherà a tutti perché nessuno di noi è immortale e sperare, pensare, credere effettivamente che, ma crederci veramente, che la gente di buon cuore, la gente, le brave persone o quelli che ci sono pentiti in tempo possano riposare veramente in pace e ritrovare un sorriso e vivere con il sorriso nell'altra dimensione. Ok, adesso ci occupiamo di Napoli-Juve. Beh, devo dire che ce ne sarebbero di cose di cui parlare, cerco di essere abbastanza sintetico. Rivedendo le immagini, lavorando sul servizio post partita, eccetera, ho stato a riguardarmi un po' certe mosse, certi movimenti, certe situazioni. Il resto della mia idea non c'entra la tattica, non c'entra le scelte, non c'entra nulla. C'entra che ieri a Napoli si è vista una Juventus totalmente senza anima, totalmente senza anima, come era già capitato di vedere, specialmente in un'altra occasione, per esempio la finale di Riad, completamente svuotata, svuotata nella testa e nell'animo e per questo incapace di capire che questa poteva essere una partita da svolta della stagione o da mini svolta della stagione. Avrebbe potuto portare la Juve a più 6 sull'Inter, che non è un vantaggio abissale, ma sempre con una partita di meno da giocare, considerando uno scontro diretto in casa, avrebbe potuto indirizzare l'andamento del campionato. Se una squadra delle persone, degli uomini, dei giocatori, non riescono a cogliere l'importanza di un momento così, allora l'interrogativo è forte, no? L'interrogativo è forte, cioè c'è stata la solita supponenza, ma sì la vinciamo lo stesso, ma sì anche se la perdiamo, ma sì tanto l'Inter e la Lazio hanno pareggiato. E ma i ma sì non fanno parte, non dovrebbero far parte di questi discorsi. Poi siamo tutti uomini, abbiamo tutti i nostri momenti in cui siamo supponenti sul lavoro, nella relazione sociale, nella vita di tutti i giorni, no? Quindi è anche facile magari adesso puntare il dito. Però, ragazzi, quello è l'obiettivo, cioè quello è l'obiettivo e ti viene da pensare che manchi, in questo momento manchi qualche leader importante in campo, adesso io faccio due nomi, Buffon, che è in panchina, Chiellini, Chiellini, ragazzi, io quei due giocatori qua che ho citato credo che sarebbero stati capaci, o quantomeno avrebbero provato, a dare una grossa sveglia in campo alla squadra. Poi dopo puoi perdere lo stesso, perché non ci mancherebbe altro, no? Puoi perdere lo stesso. Però la cosa che ha fatto più specie è vedere la Juve che in quattro minuti, in quattro minuti, negli ultimi quattro minuti, fa quello che avrebbe dovuto fare almeno per un'ora. E questo cosa vuol dire? Che non era un problema tecnico, un problema tattico, non era un problema di schieramento, non era un problema di scelte di panchina, no! Era un problema di testa, di animo, che si è svegliato improvvisamente con il gol di Ronaldo, con quattro minuti in cui la Juve ha messo lì in Napoli e con l'ultimo secondo in cui, è facile direi sei ma, Higuain non ha segnato su rovesciata perché l'ha colpita troppo bene, la palla è andata centrale, otto volte, a volte nove volte su dieci, in questi casi la palla viene presa un po' di sbieco, un po' di esterno, sarebbe probabilmente andata dentro, o magari finiva alta sulla traversa, non lo so. Se l'avesse colpita sporca avrebbe avuto certamente più probabilità, no? Di segnare. Anche se, devo dirlo onestamente, se la Juventus avesse pareggiato in quel momento, insomma, non l'avrebbe meritato, diciamocelo chiaramente, non l'avrebbe meritato. Il Napoli ha fatto la sua partita, dove gli è consentito di arrivare allo stato attuale, e qui sta facendo un grandissimo lavoro gattuso, non solo dal punto di vista mentale, ma anche dal punto di vista tecnico, tattico. Non è che siano arrivati due fenomeni al Napoli, eh? Cioè Demme e Lobotka, non sono due fenomeni che ti ribaltano la situazione. Però vanno inseriti e Gattuso li ha inseriti subito, armonizzandoli col gioco della squadra. Detto questo, la Juventus era nettamente superiore, e allora si torna al concetto di prima. Leggendo tanti i vostri commenti, per una volta devo dire, non per una volta, non voglio fare presuntuoso, devo dire sì, sono d'accordo su Matuidi. Se devo andare ad individuare delle carenze tecniche ieri, dico sì, Matuidi, non solo su quel rilancio che fa scattare l'azione del gol di Insigne. Ha sbagliato troppo, e su quel rilancio la situazione era rimediabilissima, su quel cross sbagliato da cui è partito Insigne, la situazione era rimediabilissima da tutti. Insigne ha fatto 80 metri di campo, ha tirato dopo aver scambiato un compagno, e Szczesny ha messo il pallone lì a Zianiski, ma nessuno è andato a chiudere su Insigne. C'è un errore collettivo, che è vero che viene innescato da un errore individuale, ma c'è un errore collettivo. Volete un esempio di supponenza? Lo volete? E non è la prima volta che lo noto? Alexandro che non va a chiudere sul cross del secondo gol, o lo fa camminando verso il giocatore all'ultimo momento, girandosi così. Era già una palla che arrivava da sinistra verso destra, e nessuno la intercetta. La prende un giocatore dal Napoli, parte da destra verso sinistra, e Alexandro cammina. Non è la prima volta che lo vado a far così. La supponenza in cosa sta? Beh, ma sì, tanto ci sono in area Bonucci, De Ligt, altri la prenderanno loro, perché probabilmente scattano questi meccanismi. Sono queste le specificazioni della supponenza. E sono cose a cui può rimediare solamente o la presenza di un leader in campo, ma vero, con due maroni attributi così, e che in questo momento evidentemente non c'è, o comunque se c'è magari non viene ascoltato, o comunque viene travolto anche lui dalla situazione generale, ok? Quindi o è questa la situazione, oppure è qui l'allenatore che deve intervenire, e sono sicuro che Sarri, alla ripresa del lavoro a Continassa, parlerà anche di questo aspetto, non solo dell'aspetto tecnico, dell'aspetto tattico. Parlerà anche di questo aspetto. Quindi secondo me non ci sono responsabilità dell'allenatore sulla specifica partita, c'è una responsabilità collettiva di un Juventus che a volte si sente troppo forte, ma lo abbiamo fatto tante volte questo discorso, lo abbiamo già fatto tante volte questo discorso. Non è piaciuta l'uscita di Sarri, capisco che non sia piaciuta l'uscita di Sarri sul discorso di essere contento per i ragazzi del Napoli. Ragazzi, qua si parla di sentimenti. Ho letto commenti veramente forti nei confronti di Sarri, capisco la rabbia del momento, capisco anche che non siano opportuni, se tu sei allenatore della Juventus, parlare di queste cose. Ma a me non piacciono i paraculi, e allora preferisco che uno dica la verità di quello che sente. Ok? Siccome Sarri non è un paraculo, è tutto tranne un paraculo, ha semplicemente detto quello che pensava, dando una lezione a posteriori, guardate dove arrivo adesso, attenzione, a questa roba qui, ascoltate, guardate e ascoltate. Con il numero 21, Gonzalo Iguarin, con il numero 30, a disposizione dell'allenatore, Maurizio Sarri. Con il numero 30, a disposizione dell'allenatore, 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 a disposizione dell'allenatore.